Siamo a 5 secondi 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 Il drone alleato ha trovato una bomba. 10 secondi all'inserimento. 5 secondi all'inserimento. Bomba individuata. L'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla. 5 secondi all'inserimento. Il drone alleato, è una nuova. Impressione. Apparare, il drone alleato. 1 secondi all'inserimento. Vieni fuori. Versaglio avvistato. Ultimo nemico rimasto. Difensori eliminati. Missione d'attacco riuscita. Fino d'attacco riuscita. Il drone alleato ha trovato una bomba Attenzione il drone alleato ha trovato una bomba Ancora 10 secondi 5 secondi Bomba individuata l'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla Hai perso il disinnescatore Il disinnescatore è di nuovo nostro Non tirai niente Non tirai niente Attenzione il drone alleato Attenzione il drone alleato Non tirai niente Non tirai niente Non tirai niente Grazie a tutti. 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 Dovete... 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 Buon... Dovete... Buon... Non è... Un innescatore... Un innescatore... Grazie a tutti. Dovete... 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 fuori dalla linea di tiro dell'ads la squadra d'attacco ha trovato una bomba rimangono 10 secondi 5 secondi la squadra d'attacco ha trovato una bomba prepararsi all'azione nemica c'è una bomba che mi ha detto troppo che ci vedi che mi ha detto troppo fuori dalla squadra vieni qui se hai coraggio forse andiamo è dacca a tutti il sensore ricarica sensore attivato ricognizione ricarico i fatti contano più delle parole sensore cardiaci di ricarico restano 15 secondi ultimo nemico rimasto restano 5 secondi non c'è più tempo restano 5 secondi difendete l'area e proteggete le bombe posizione bomba compromessa regolarsi di conseguenza un po' un po' Siamo a 10 secondi 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 Caricatore Ultimo Siamo a 10 secondi Siamo a 10 secondi Siamo a 10 secondi Siamo a 10 secondi Ricarico Siamo a 10 secondi 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 I fatti contano più delle parole Cambio caricatore Siamo a 15 secondi Il tempo scade tra 10 secondi Rimangono 5 secondi Non c'è più tempo Non c'è più tempo Non c'è più tempo Non c'è più tempo Inserimento tra 10 secondi 5 secondi all'inserimento Bomba individuata L'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla Nuovo caricatore Non è attivato Non è attivato Non c'è più tempo Non c'è più tempo Non è attivo Non è attivo Non c'è più tempo Non c'è più tempo Primo piano Ricarica Lontani dall'esplosione Ricarica Ultimo nemico rimasto Disinnescatore online è attivo Difensori eliminati Missione d'attacco riuscita Unbreaker Adulti Desperate Una Dei Grazie a tutti.